Ciao a tutti, una veloce raccomandazione che nasce dall'ultima riunione dell'ERC a Dublina riguardo a Elsie Ringhoff, ovvero l'atteggiamento della squadra in attacco che sigilla il possesso del pallone, come in questo caso il giocatore bianco, andando con le spalle più basse del bacino e impedendo qualsiasi tipo di contesa da parte della squadra che tenta di recuperare il pallone, anche queste immagini emblematiche è correttamente fischiata dall'arbitro, colgo l'occasione per evidenziare anche l'entrata poi del compagno, di colui che fa Elsie Ringhoff, facciamo attenzione che chi entra nei raggruppamenti lo faccia con l'intenzione di pulire l'avversario e non come fa questo con la sola spalla, probabilmente con l'intenzione di fare male piuttosto che di portarlo via, quindi assicuriamoci che entri con il braccio largo per legare, per spazzare via e non per caricare con la spalla. ecco qua il Si Ringhoff, va a terra, vedete che il peso non è supportato dalle gambe ma deve necessariamente appoggiare le mani a terra e poi c'è l'arrivo del compagno tra l'altro di fianco. Ancora altre immagini, questa volta situazioni non sanzionate dall'arbitro scozzese, vedete che spesso non è facile individuarlo per la velocità dell'azione, ma ecco qui il giocatore numero 5 indicato dalla freccia che chiaramente lascia gli appoggi e si posiziona sopra il pallone così come fa quest'altro giocatore maglietta scura, ecco qui si rende conto che il compagno è isolato che tra l'altro non rischia neanche il contest da parte della difesa, ma comunque va a sigillare il possesso. L'ultimo caso del Treviso, anche qua non fischiato e qui è importante notare la differenza tra quello che fa il primo giocatore del Treviso e il secondo, ovvero qui c'è un giocatore del Biarrizzi che va a contendere perfettamente perché lascia il placato e poi rimette le mani per contendere il pallone, il primo giocatore del Treviso va sì basso, ma va per portare via l'avversario, eccolo qui, questo gesto è perfetto, è auspicabile e invece quello che non è corretto è il secondo giocatore del Treviso che si rende conto del pericolo di contest e a quel punto va sotto il possibile contestatore, questo è sicuramente da fischiare. guardiamo il replay, perfetto il giocatore del Biarrizzi che lascia il placato, fa vedere che ha intenzione di lasciare il placato e poi mette nuovamente le mani, ecco qua lascia perfettamente e poi torna sul pallone e poi il gesto del secondo sostegno di conservazione del Treviso che invece va a sigillare il possesso rendendo impossibile la contesa da parte del giocatore del Biarrizzi. È tutto, buon arbitraggio.